Musica Musica Ci troviamo nella mia azienda agricola composta da 200 capi di bovini e di vacche da latte. Abbiamo a disposizione 50 ettari in coltivazione di mais, a disposizione sia dell'allevamento sia del biogas. Abbiamo deciso di fare l'impianto per incrementare il reddito della nostra azienda, la quale con le vacche da latte è molto in difficoltà. Abbiamo incrementato questo reddito per poter sfruttare liquami, letami e quanto riguarda tutto quello che viene prodotto dalle vacche. Trasformandolo in energia elettrica, quindi l'impianto ci sta creando un reddito alternativo che ci aiuta a mantenere la nostra azienda in vita. Musica Abbiamo già anche un progetto futuro dove il teleriscaldamento lo vorremmo sfruttare sia sulle abitazioni e sia sulle sale mungitura dove sarebbe un risparmio anche economico sulla nostra azienda. Questa azienda ha quattro generazioni, dai miei bisnonni, i nonni, il mio papà e io. C'è già un figlio che è entrato nell'azienda dove abbiamo costruito questo impianto di biogas per dargli un futuro sia a lui e sia alle vacche da latte che purtroppo in questo momento sono in serie difficoltà. Musica Questo impianto è stato fatto su misura dalla mia azienda perché riusciamo a gestirlo con il 50% dei nostri liquami e il resto abbiamo essere triticale, trinciato. Musica Musica